Parta Fabio il mercato dei contadini? Sì, parte il mercato di Campagna Amica in collaborazione con la Col di Retti, sarà presente tutti i giovedì dalle 15 alle ore 19 in Piazza della Repubblica, in particolare sul viale Corso Matteotti. Questo l'abbiamo fatto soprattutto per dare possibilità ai nostri coltivatori che producono in proprio, far sì che loro abbiano la possibilità di vendere i loro prodotti e soprattutto per i cittadini perché si acquista prodotti a chilometro quasi a zero e sono prodotti di stagione, prodotti certificati con una garanzia di alimentare. Un po' di preoccupazione per la Fiera di Sant'Isidoro o meglio per la Battaglia delle Renze? Grandissima preoccupazione perché il fronte animalista ha creato un evento per contestare la Battaglia delle Reine e quindi ci crea e ci creerà sicuramente qualche problema. Noi siamo, ricordo a tutti che Favre è un paese molto ospitale, siamo disposti ad un confronto direi pacato, corretto nella educazione e vogliamo dimostrare che questi animali non sono trattati male, non vengono drogati. E' una forma di battaglia se così si può definire per una spinta che loro hanno come morfologia fisica di questi animali, sono molto tozzi e si spingono con la testa ma non si fanno assolutamente male. E' una forma di sottomissione che un animale ha nei confronti dell'altro e poi finisce tutto lì. Ma ripeto ancora, la nostra preoccupazione è che questa manifestazione o questo modo di aggredire se viene portato con violenza, in qualità di ufficiale di pubblica sicurezza non sarò in grado certamente di garantire la loro incolumità fisica. Spero che questo non avvenga nell'interesse di tutti. Quindi ben accetta la manifestazione pacifica ma non vi entra? Sicuramente pacifica, siamo qui insieme ai Reineri, al comitato della provincia di Torino per dimostrare che non c'è nessun problema, che gli animali sono trattati molto bene, però vogliamo che questo avvenga in una forma civile e democratica. Io sono a disposizione tutti i giorni, sono disposto a lasciare loro lo spazio per poter contestare, per poter dare volantinaggio ma non che si usi la violenza. Grazie a tutti i giorni, grazie a tutti i giorni.